Radio Alda Con 35.000 followers sulla pagina Facebook è Radio Alba la prima radio social del Piemonte Ascolta Radio Alba e seguici ogni giorno su Facebook e Instagram Metti anche tu mi piace ed entra a far parte della nostra Radio Alba Community E ti senti a casa Radio Alba